siamo con enzo e marcella di farouche che è un first 30 ma di che anno è 83 il 1983 è dannato un'imbarcazione di quelle solide dure come si facevano una volta di bella questa 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 piccola puntatina diciamo che non ci sta male per niente allora com'è stata questa scheria cup anglosassone anglosassone non lo so perché per il tempo per il metodo è solo quello c'è un pochettino di fastidio perché un almeno qualche minuto di pausa avremmo preferito diciamo averla per godersi un pochettino più la regata è stata molto bella interessante un po di pioggi meno non ci sarebbe costata comunque vi siete comportati molto bene marcella è raccontaci un po l'equipaggio come ha girato se avete fatto turni come avete mangiato come avete gestito questa regata che tutti confermano è stata dura come edizione abbastanza impegnativa soprattutto per il tempo e noi abbiamo fatto turni più o meno chi più breve che più lunghi però insomma in media un'ora un'ora e mezzo due ore ciascuno e mangiare su farouche non manca mai quindi su quello possiamo stare tranquilli a volte principalmente il dire quanti eravate a bordo cinque struttura classica qui cinque persone di equipaggio sufficiente quasi sempre ci sono stati dei momenti particolari insomma decisivi o insomma momenti chiave che uno dice questo da momenti chiave diciamo che non abbiamo mai pensato di ritirarci questo sicuramente quindi non c'è mai venuto il dubbio di ritirarci quindi questa è una soddisfazione anche aver fatto quattro giri completi è stata una bella soddisfazione nonostante il tempo comunque che ci ha messi a dura prova cambi di vele no nessuno abbiamo fatto fai vai questo è una classe particolare cambi di vela non non sono previsti è una categoria grande ma voi siete gran crociere noi siamo a gran crociere quindi c'è un genoa c'è una randa uno spinnaker bellissimo spinnaker all'arrivo abbiamo visto poco fa ecco diciamo che è il nostro punto di forza che dispi sta barca ma bolina addirittura bolina larga ma bolina di spi quindi bene un first 30 cosa avete fatto cosa hai fatto con questo first 30 così le cose salienti l'ultimo abbiamo fatto la telegolfi che ci ha distrutto perché è stata durissima questa telegolfi e poi sono tutti tutte le regate che si fa nell'ambito della della campagna traveri circa noi siamo sempre presenti capito che meraviglia anche le barche piccole le barche dannata possono e devono fare queste regate grazie marcella grazie complimenti a farouche grazie